Vorrei due ali d'aliante 5,4,3,2,1 vai Destra 5,30 Alla casa sinistra 4 E al cartello rosso diventa 3 sconnessa, attenzione Ritarda, destra 3, lunga, gira In sinistra 4,5 Per accenno sinistro veloce, vai 100 Tieni sinistra E attenzione al cartello, destra 2 in bivio, destra 2 meno in bivio Per accenno destro 70 Destra 3 In sinistra 3, più In destra 4, più più 100 Attenzione Destra in, in versione sinistra 30 30 Sinistra 5 30 Sinistra 5 50 Destra 5 30 Attenzione Destra 2 non tagliare 20 Accenno sinistra 5 Accenno sinistro in destra 2 Non tagliare Diventa 4 più in uscita In sinistra 4 più lunga In rail Destra 4 30 30 Ritarda sinistra 3 In destra 4 più Vai, 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 vai In destra 4 più In sinistra 5 50 Attenzione ritarda Destra 4 stretta Attenzione 20 Sinistra 4 più 30 Sinistra 3 più 30 Orca madonna Perfetto